Musica Ospite d'eccezione è il professor Mantegazza, pedagogista, pedagogista che ha fatto una lezione pedagogica vera e propria sulla resistenza, la resistenza legata al bello. Professore, la resistenza è solo un qualcosa da ricordare o è un discorso che prosegue? Sicuramente la resistenza è qualcosa da portare avanti, anzi tante persone resistono anche oggi, resistono al potere nelle sue forme peggiori, ma resistono anche quotidianamente cercando di dare un senso alla loro vita, di educare dei figli, di trasmettere dei valori importanti di tolleranza, di amicizia, di rispetto. Quindi è una storia che continua, sta a noi cercare un collegamento tra la resistenza come fenomeno storico antifascista e queste forme di resistenza più attuali e più quotidiane. Viviamo in un'epoca abbastanza contraddittoria, dove gli ideali della resistenza, gli ideali della democrazia sono ben chiari, però sembra che qualcuno si dimentichi di applicarli, forse? Sì, probabilmente è venuta un po' meno l'attenzione, la vigilanza. Io penso che si sia dato un po' troppo per scontata la democrazia, come se fosse l'aria che respiriamo, nessuno la mette in discussione. Invece siccome c'è chi ancora oggi, come allora, cerca di mettere in discussione, addirittura di aggredirla, di distruggerla, la vigilanza, l'attenzione, il far rivivere sempre con forza questi valori deve essere un po' il nostro compito. Probabilmente abbiamo pensato che tutto fosse finito il 25 aprile del 45, invece lì era un inizio. Adesso dobbiamo ripartire, continuare con forza, con tenacia, soprattutto rivolgendosi ai giovani, alle nuove generazioni. Da dove inizierebbe lei? Inizierei dalla scuola. La scuola è comunque il luogo che per fortuna è frequentato da tanti bambini e tanti ragazzi, per fortuna oggi che vengono da tante culture, il bambino che fa i compiti di fianco a un compagno albanese o una compagna senegalese vive già la potenzialità, l'importanza delle differenze, l'importanza del crescere insieme e della democrazia. La scuola può tornare ad essere quella palestra di cittadinanza che la Costituzione le chiede di essere. E poi dovunque ci sia un adulto che ha responsabilità educativa, un allenatore, un catechista, un genitore, una persona che si pone davanti a un bambino per farlo crescere, nelle azioni quotidiane far vivere questa forza della democrazia, che è comunque più forte delle dittature. Questa deve essere una consapevolezza che noi abbiamo. La democrazia è più forte e come ha vinto allora può continuare a vincere. Grazie mille.